La malmenata, fino a farla cadere provocandole la frattura di una tibia, per diversi mesi ha maltrattato e vessato l'anziana non autosufficiente. La badante, una 66enne originaria della Georgia, è stata arrestata due giorni fa all'aeroporto di Milano, Malpensa. La donna risiede da quasi 14 anni in Italia e nell'ultimo anno è stata assunta per assistere un'anziana donna, 91enne, in quanto gravemente malate necessitante di continua assistenza. Secondo quanto emerso dalle indagini, la badante invece di accudire la vittima avrebbe perpetrato una serie di condotte vessatorie e violente culminate nella frattura della tibia dell'anziana donna. Maltrattamenti ripresi da una telecamera che ha permesso agli investigatori di convalidare i sospetti dei parenti della 91enne, i quali già avevano notato lividi sul corpo che, secondo le giustificazioni della badante ai familiari, erano frutto di incidenti domestici o comunque di casualità. La 66enne si trova ora nel carcere di Milano.